capitolo 56 esimo rodolfo nickelby deluso dal nipote nella sua ultima trama architetta una vendetta suggerita gli dal caso e ne chiama a parte un complice provato il corso che queste avventure spontaneamente seguono e imperativamente impongono allo storico di osservare esige ora che si torni al punto raggiunto al principio dell'ultimo capitolo a rodolfo nickelby e arturo grade rimasti soli nella casa dove la morte aveva sollevato il suo nero e pesante vessillo coi pugni stretti e i denti serrati con tanta forza e solidità che neppure un'armatura ferrea li avrebbe ribaditi con maggiore fermezza rodolfo rimase per alcuni minuti nell'atteggiamento con cui si era rivolto al nipote respirando pesantemente ma così rigido e immobile che senza il respiro sarebbe sembrato una statua di bronzo dopo un po cominciò pian piano come un uomo che si svegli da un sonno grave a rilasciarsi per un momento scosse il pugno verso la porta dalla quale era scomparso nicola e poi ficcandosi la mano in petto come per reprimere a forza il tumulto dell'ira si volse a guardare il meno ardito compagno che non si era ancora levato da terra il miserabile codardo che ancora tremava in tutte le membra e i cui pochi capelli grigi nel terrore che lo aveva invaso gli si scotevano e si agitavano in testa si rimise in piedi barcollando incontrando l'occhio di rodolfo e schermendosi il viso con le mani protestò mentre andava verso la porta che la colpa non era sua chi va detto che era colpa vostra rispose rodolfo con voce soffocata chi ve l'ha detto avete un'aria come se voleste prendervela con me disse timidamente graide oi boh mormorò rodolfo sforzandosi di sorridere me la piglio col morto che non ha voluto campare almeno un'altr'ora un'altr'ora sarebbe bastata non me la piglio con nessun altro nessun altro disse graide per questa disavventura rispose rodolfo io ho molti vecchi conti da fare con quel giovane che vi ha portato via la sposa ma questo non c'entra con le sue gradassate da adesso perché l'avremmo messo subito a posto senza questo caso disgraziato vera qualcosa di così poco naturale nella calma con cui parlava rodolfo specialmente se si teneva conto della sua fisionomia vera qualcosa di così poco naturale e così spettrale nella sua voce rauca piana e ferma soltanto modificata da una certa difficoltà di respiro che lo faceva interrompere quasi a ogni parola come un ubriaco che si sforzasse di parlar chiaro nell'espressione del viso di intensa e violenta collera e nello sforzo che gli faceva per reprimerla che se il cadavere che giaceva di sopra si fosse rimesso in piedi innanzi allo sciagurato graide questi non si sarebbe sentito molto meno atterrito la carrozza disse rodolfo dopo un po come stremato da uno sforzo vehemente noi siamo venuti in carrozza c'è ancora graide fu lieto dell'occasione di andare alla finestra a vedere rodolfo tenendo il viso voltato dall'altra parte si golciva la camicia con la mano che si era ficcata nel petto e mormorava in un rauco bisbiglio 10.000 sterline ha detto 10.000 sterline la precisa somma pagata soltanto ieri per due ipoteche e che sarebbero state investite di nuovo domani a forte interesse se quella ditta fosse fallita ed egli fosse stato il primo a portare la notizia c'è la carrozza sì sì disse graide scosso dal tono terribile della domanda c'è povero me che uomo tremendo che siete venite qui disse rodolfo con un cenno non dobbiamo avere l'aria ad essere turbati ce ne andremo da basso a braccetto ma voi mi stringete da farmi venire i lividi esclamò graide rodolfo lo lasciò andare impaziente e dopo esser disceso col suo solito passo grave e pesante montò in vettura arturo graide lo seguì dopo aver guardato con una occhiata dubbia rodolfo siccome il vetturino chiedeva ove dovesse andare arturo vedendo che il compagno non parlava e non esprimeva desiderio alcuno disse l'indirizzo di casa sua e ivi furono diretti in cammino rodolfo rimase a sedere nell'angolo con le braccia incrociate senza dire una parola col mento chinato sul petto e i tristi occhi nascosti dalla contrazione delle folte sopracciglia si sarebbe potuto dire che dormisse perché non si mosse finché la carrozza non si fermò e quando levò la testa e guardò fuori dello sportello domandò dove si trovassero a casa mia rispose graide sconsolato pensando forse alla solitudine in cui doveva rimanere povero me a casa mia già disse rodolfo non ho osservato la via percorsa vorrei un bicchiere d'acqua in casa l'avete immagino avrete un bicchiere di qualcosa che vi piaccia rispose graide con un gemito è inutile picchiere cocchiere suonate il campanello il cocchiere suonò suonò e suonò ancora poi si mise a picchiare finché la strada non riecheggiò dei colpi poi si mise ad ascoltare per il buco della chiave nessuno veniva la casa era silenziosa come una tomba che cosa è accaduto disse rodolfo impaziente margherita è più sorda ad una campana rispose graide con uno sguardo d'ansia e di paura povero me suonate ancora cocchiere lei il campanello deve vederlo il cocchiere suonò di bel nuovo e picchiò di bel nuovo alcuni vicini spalancarono le finestre e si gridarono l'un l'altro attraverso la strada che la governante del vecchio graide doveva essere caduta morta sul pavimento altri si raccolsero intorno alla carrozza e si divertirono con varie ipotesi che margherita dormiva della grossa che si era obbliacata certo tipo fornito ad una enorme pinguedine disse che l'aveva visto qualche cosa da mangiare e ne era rimasta tanto atterrita non essendo avvezza a quella vista che era caduta in terra svenuta quest'ultima spiegazione divertì tanto gli astanti che si misero a ridere tutti strepitosamente e furono con difficoltà impediti dall'atterrare la cancellata e sfondare la porta della cucina per accertarsi della cosa né questo fu tutto essendo corse delle voci che quella mattina arturo si doveva sposare molta curiosità s'era destata intorno alla sposa che la maggioranza ritenne travestita in persona del signor rodolfo nickelby cosa che destò molta scherzosa indignazione e lo spettacolo d'una sposa in calzoni e stivaloni fu coronata da un subisso di grida e durla infine i due usurai trovarono ricetto nella casa attigua e avuta una scala a pioli si arrampicarono sul muro posteriore del cortile che non era molto alto e discesero sani e salvi dall'altro lato sapete che vi dico ho quasi paura ad entrare disse arturo volgendosi a rodolfo non appena furono soli e se l'avessero ammazzata se stesse in terra col cranio spaccato dall'attizzatoio se fosse così disse rodolfo io vi dico che non mi dispiacerebbe che simili cose avvenissero più spesso del solito e si facessero più facilmente è inutile che mi guardiate con quegli occhi non mi dispiacerebbe egli si diresse alla pompa nel cortile e dopo aver bevuto a lungo ed essersi a lungo bagnate la testa e la faccia riprese i suoi modi e si diresse verso l'abitazione seguito da gride erano sempre le stesse camere buie lugubri e silenziose come solevano essere sempre con tutti i loro mobili spettrali nei loro cantucci consueti il cuore metallico del triste vecchio orologio non turbato dal chiasso di fuori continuava a battere gravemente nella sua polverosa custodia gli armadi vacillanti si ritraevano secondo il solito nei loro angoli melanconici gli echi dei passi rispondevano con loro triste suono il ragno dalle lunghe gambe arrestava la sua corsa leggera e atterrito dalla vista degli uomini nel suo oscuro dominio rimaneva immobile fingendo d'essere morto e aspettando che fossero passati i due usurai cercarono dalla cantina alla soffitta facendo scricchiolare tutte le porte e guardando in ogni stanza deserta ma rita non c'era infine si sedettero nella stanza di gride per riposarsi della lunga ricerca quella bestia uscita immagino per andare a procurarsi qualche cosa per la solennità nuziale disse rodolfo preparandosi ad andarsene guardate qui io distruggo la vostra obbligazione non ce ne sarà più bisogno gride che aveva guardato minutamente nella stanza cadde in quell'istante in ginocchio innanzi a una grossa cassetta cacciando un terribile urlo che cosa c'è disse rodolfo guardando in giro derubato derubato strillò arturo gride derubato del denaro no 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 peggio molto peggio di che domandò rodolfo peggio che del denaro peggio che del denaro gridò il vecchio gettando le carte fuori della cassetta come una bestia che scavi la terra avrebbe fatto meglio se mi avesse rubato il denaro tutto il mio denaro io non ne ho molto avrebbe fatto meglio a ridurmi alla mendicità che non questo che cosa disse rodolfo che cosa ha fatto rimbambito del diavolo gride non rispose ma frugava e sconvolgeva le carte e abbaiava e squittiva come un demonio fra i tormenti vi manca qualche cosa si può sapere disse rodolfo scotendolo furiosamente per il bavero che cosa c'è le carte i documenti io sono rovinato perduto perduto sono derubato sono rovinato essa ma visto che lo leggevo ultimamente ma visto che lo leggevo lo leggevo spesso ma osservato ma visto che lo mettevo in una cassetta che lo osservavo in quest'altra e si ha portata la cassettina ma derubato maledizione ma derubato di che cosa esclamò rodolfo che parve illuminato da un'improvvisa ispirazione perché gli occhi lampeggiarono e fu scosso tutto da un tremito mentre abbrancava gride per il braccio ossuto di che essa non sapeva che fosse non sa leggere gridò arturo non badando alla domanda è solo un mezzo per lei di far denaro ed è di tenerselo qualcuno glielo leggerà e le dirà che cosa deve fare essa e il suo complice ne faranno del denaro e la faranno franca e se ne faranno un merito diranno d'averlo trovato sapevano dove era e lo porteranno in prova contro di me il solo a soffrire sarò io 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 pazienza disse rodolfo abbracciandolo più forte e guardandolo con un'occhiata obliqua così fissa e intenta da indicare abbastanza che gli aveva un proposito nascosto in ciò che stava per dire ragionate lei non può essere andata lontano chiamerò la polizia voi darete soltanto l'informazione di ciò che vi ha rubato e la piglieranno state certo ecco aiuto no 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 strillò il vecchio mettendo la mano sulla bocca di rodolfo non posso non oso aiuto aiuto esclamò rodolfo no 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 gridò l'altro pestando il piede con l'energia ad un pazzo vi dico di no non ne ho il coraggio non ne ho il coraggio non avete il coraggio di dire che vi hanno derubato disse vivamente rodolfo no soggiunse grade torcendosi le mani zitto zitto non una parola non una parola io sono rovinato dovunque mi volto sono rovinato sono tradito sarò denunciato alla giustizia morirò nella prigione di newgate con simili foglie esclamazioni e con tante altre nelle quali erano stranamente fusi la paura il dolore e la rabbia quello sciagurato atterrito andò pian piano sorvegliando il primo acuto grido fino a ridurlo a un lento accurato gemito variato di tanto in tanto da un urlo nell'atto che frugando nelle carte rimaste scopriva una nuova perdita rodolfo senza scusarsi affatto della sua improvvisa partenza lo piantò in asso e deludendo molto i bighelloni di fuori ai quali disse che non era accaduto nulla entrò in carrozza e si fece portare a casa una lettera lo aspettava sul tavolino la lasciò stare per qualche minuto come se non avesse il coraggio di aprirla ma finalmente la prese e diventò mortalmente pallido è avvenuto il peggio che poteva avvenire disse la ditta è fallita comprendo la voce ne è corsa ieri sera nel mondo degli affari ed è arrivata all'orecchio dei fratelli ciribol bene bene si mise a camminare a gran passi nella stanza su e giù e poi si fermò diecimila sterline e son state qui un giorno solo un giorno solo quanti anni d'ansia quanti giorni di tormenti e di notti insonni prima che io mettessi insieme quelle diecimila sterline diecimila sterline quante altere dame imbellettate mi avrebbero sorriso con dolci parole quanti imbecilli scialacquatori mi avrebbero ricevuto e lisciato e maledetto in cuor loro nell'atto che le avrei fatte diventare ventimila mentre io mi sarei martoriato e affannato e avrei sprecati i miei profitti e la mia soddisfazione dai creditori bisognosi che discorsi dolci e lusinghieri che sguardi cortesi che bei bigliettini cerimoniosi mi sarebbero toccati la calunnia di questo mondo bugiardo è che gli uomini pari miei raggiungono le ricchezze con la simulazione il tradimento con la cortigianeria la servilità e la bassezza ebbene a quante menzogne a quante vili e tristi simulazioni a che contegno servile le diecimila lire mi avrebbero fatto assistere da parte di quei superbiosi che se non fosse per il mio denaro si allontanerebbero da me con disprezzo come fanno per tanta gente molto migliore di loro ammettendo che io avessi raddoppiato la somma fatto nel cento per cento perché ogni sterlina ne tira un'altra non vi sarebbe stata una sola moneta in tutto il mucchio che non avrebbe rappresentato diecimila vili e basse menzogne dette non dal creditore a no ma dai debitori da quella schiera di brave generose eleganti incuranti persone che non risparmierebbero un centesimo neanche ad ammazzarle sforzandosi si direbbe di perdere una parte dell'amarezza del suo rimpianto nell'amarezza di questi altri pensieri rodolfo continuò a camminare su e giù nella stanza a misura che la mente ritornava sulla perdita sofferta i suoi modi diventavano meno fermi e infine abbandonandosi nella poltrona e abbracciando nei braccioli con tanta forza da farli scricchiolare disse fra i denti stretti è passato quel tempo in cui nulla avrebbe potuto commuovermi quanto la perdita di questa grossa somma nulla perché nascite morti matrimoni e tutti gli avvenimenti che interessano gli altri non mi interessavano affatto tranne che non si riferissero a guadagni o perdite di denaro ma ora io giuro che questa perdita mi è stata resa più dolorosa dalla soddisfazione di mio nipote nell'annunciarmela se fosse avvenuta per fatto suo quasi temo che vi abbia preso parte non lo odierei di più che io mi vendichi su di lui per quanto a poco a poco che io rovesci il piatto della bilancia e potrò sopportare questa perdita le sue meditazioni furono lunghe e profonde terminarono con l'invio per mezzo di newman d'una lettera diretta al signor squeers alla testa del saraceno con l'ordine di domandare se fosse arrivato a londra e quindi di aspettare una risposta newman tornò con la notizia che il signor squeers era arrivato la mattina con la diligenza e aveva ricevuto la lettera in letto ma che gli mandava i suoi ossequi e la promessa che si sarebbe levato e sarebbe andato subito a trovare il signor nickelby l'intervallo fra questo messaggio e l'arrivo del signor squeers fu breve ma prima che egli arrivasse rodolfo aveva fatto sparire da sé ogni indizio di commozione e aveva ancora una volta assunto il suo abituale contegno di durezza inflessibile al quale si doveva non poca parte di quel potere che egli soleva esercitare quasi a suo libido su molti che non guardavano molto per il sottile in fatto di moralità bene signor squeers e gli disse dando il benvenuto a quella brava persona col solito sorriso in cui entravano come componenti un vivo sguardo e un pensoso aggrottamento di sopracciglia come state bene signore rispose il signor squeers piuttosto bene come anche la famiglia e i ragazzi tranne per una specie di eruzione della pelle che ci obbliga a tenerli a stecchetto tira un vento cattivo che non fa bene a nessuno questo dico ai ragazzi qui tocca qualche malanno i malanni cari sono il retaggio dell'umanità la stessa esistenza è un malanno il mondo trabocca di malanni e se un ragazzo si lagna ad un malanno e vi disturba coi suoi lamenti bisogna picchiarlo lo dice anche la scrittura signor squeers disse in tono asciutto rodolfo dite basta con codesti brani morali se non vi dispiace e parliamo d'affari col massimo piacere signore soggiunse squeers e permettete prima che vi dica prima di grazia permettete che parli io nox newman non si presentò che dopo essere stato chiamato due o tre volte e poi domandò se il padrone avesse chiamato si va a desinare e torna presto hai capito non è ora disse newman riottoso è la stessa mia ora e io dico che è ora rispose rodolfo voi la cambiate tutti i giorni disse newman non è giusto tu non hai molte cuoche e potrei facilmente scusarti per il disturbo ribatte rodolfo va caro rodolfo non solo emanò quest'ordine nel modo più perentorio ma fingendo di andare a pigliare delle carte dallo stanzino di newman s'accertò che fosse stato obbedito e dopo che newman se ne fu andato mise la catena alla porta per impedire che newman con la sua chiave ritornasse inosservato ho ragione di sospettare di colui disse rodolfo tornando nella sua stanza perciò finché non avrò trovato il mezzo più rapido e facile di rovinarlo è prudente tenerlo a distanza credo che non ci vorrebbe molto a rovinarlo disse squeers con un sogghigno forse no rispose rodolfo e neppure per rovinar molti altri ammennoti stavate dunque dicendo l'accenno molto sommario e disinvolto del trattamento riservato a newman e l'osservazione che lo seguì ebbero evidentemente un effetto senza dubbio calcolato sul signor squeers che disse dopo aver esitato un poco e in tono molto più sommesso sì quello che volevo dire signore si è che la faccenda di quell'ingrato e snaturato figlio del signor snowley mi mette fuori di strada e mi dà un sacco di noie senza dir che mi costringe a fare per delle settimane di seguito assolutamente una vedova di mia moglie naturalmente è un piacere per me avere a che fare con voi naturalmente disse in tono asciutto rodolfo sì dico naturalmente rispose il signor squeers sfregandosi le ginocchia ma intanto quando si fa come me un viaggio di 250 miglia per una dichiarazione scritta giurata non è un divertimento senza contare il rischio e di che rischio parlate signor squeers disse rodolfo ho detto senza contare il rischio rispose evasivamente squeers e io ho detto dove è il rischio io intendete non mi lagnavo signor nickelby si scusò squeers parola d'onore io non veggo io vi domando dov'è il rischio ripete rodolfo con energia dov'è il rischio rispose squeers sfregandosi più forte le ginocchia è impossibile dirlo certi tasti è bene evitarli voi sapete benissimo di che rischio intendo quante volte vi ho detto disse rodolfo e quante volte lo dirò che non correte rischio alcuno ciò che avete giurato ciò che vi si chiede di giurare non è che questo che in questo quel giorno vi fu lasciato un ragazzo col nome di smike che gli stette nel vostro istituto un dato numero di anni che fu perduto in queste quelle circostanze e che ora è stato trovato ed è stato identificato da voi tutto questo non è vero forse sì rispose squeers tutto vero bene allora disse rodolfo quale rischio correte chi giura il falso è snowley una persona la quale ho dato molto meno che a voi e lì certo l'ha fatto per poco osservò squeers per poco rispose rodolfo di malumore sì e l'ha fatto bene e che faccia ipocrita che ha e che aria di sincerità che sa assumere ma voi il rischio che intendete col rischio i certificati sono tutti autentici snowley aveva un altro figlio si è ammogliato due volte la sua prima moglie è morta e soltanto la sua ombra può dire che essa non scrisse quella lettera nessuno altro che snowley può dire che questo non è suo figlio e che suo figlio è stato rosso dai vermi l'unico spergiuro è snowley ed io immagino che egli allo spergiuro sia piuttosto abituato il vostro rischio dov'è e allora sapete disse squeers irrigidendosi sulla sedia se voi dite così vi potrei dire dov'è il vostro voi potreste dire dov'è il mio rispose rodolfo voi potreste dire dov'è il mio se io non figuro nella cosa non figurate neppure voi è del massimo interesse per snowley di insistere nella storiella da lui narrata il suo rischio consiste nel mutare soltanto una linea della sua dichiarazione qual è il rischio vostro nel complotto sentite rimostrò squeers guardandosi intorno a disagio non lo chiamate così di grazia non lo chiamate così chiamatelo come vi pare disse rodolfo irritato ma ascoltatemi questa storia è stata originalmente fabbricata come un mezzo per molestare colui che vi ha danneggiato nel vostro mestiere e vi bastonò a morte e permettervi in grado di riottenere il possesso di quel povero diavolo semi morto che voi desiderate di riavere perché mentre vi vendicate del vostro nemico per la parte presa nella cosa sapete che il semplice fatto del ritorno del ragazzo nelle vostre mani sarebbe il più grave castigo con cui lo stesso vostro nemico può essere colpito è così signor squeers bene signore rispose squeers quasi soverchiato dalla determinazione mostrata da rodolfo di far convergere tutti i fatti contro di lui e dalla durezza e dalla inflessibilità dei modi con cui essi venivano esposti in una certa misura sì che cosa intendete disse tranquillamente rodolfo in una certa misura rispose squeers intendo appunto com'è perché non tutto fu fatto per conto mio ed anche voi avevate un vecchio rancore da soddisfare se io non l'avessi avuto disse rodolfo senza smarrirsi minimamente a quella obiezione credete che io vi avrei aiutato ebbene no non immagino che mi avresti aiutato ribatte squeers desideravo che questo punto fra di noi fosse precisamente definito come potrebbe essere diversamente rimbeccò rodolfo tranne che il bilancio è a mio svantaggio perché io spendo del denaro per soddisfare il mio odio e voi l'intascate soddisfacendo nello stesso tempo il vostro voi siete bramoso di denaro e di vendetta come me chi si avvantaggia voi che guadagnate del denaro e vi vendicate nello stesso tempo e con la stessa azione e che in ogni caso siete sicuro di intascare del denaro se non di vendicarvi o io che sono soltanto sicuro di rimetterci di tasca in qualunque caso e non posso guadagnare infine che la semplice vendetta siccome il signor squeers non poter rispondere a questa risposta che con delle scrollatine di spalle e dei sorrisi rodolfo lo avvertì gravemente di tacere e di considerarsi fortunato di uscirne così a buon mercato e poi piantandogli gli occhi addosso continuò a dire primo che nicola gli aveva mandato a monte un progetto da lui formato a proposito del matrimonio di una signorina e che nella confusione seguita alla morte del padre della stessa signorina nicola l'aveva rapita portandosela via in trionfo secondo che per qualche atto testamentario o disposizione certo per qualche strumento che doveva contenere il nome della signorina e si poteva facilmente trovare fra gli atti se si poteva arrivare al luogo dove era depositato a lei era destinato un patrimonio che se l'esistenza di quel documento le fosse stato notificato avrebbe arricchito il marito e rodolfo assicurò che nicola certo l'avrebbe sposata e fatto di costui un nemico più terribile terzo che il documento insieme con altri era stato sottratto a uno che l'aveva lui stesso ottenuto e nascosto fraudolentemente e che temeva di fare dei passi per recuperarlo lui rodolfo conosceva il ladro il signor squeers ascoltò tutto questo con avide orecchie che divoravano ogni sillaba e col suo unico occhio e la bocca spalancata domandandosi meravigliato per quale ragione speciale rodolfo lo onorasse di tanta confidenza e a che mai tendesse tutto il discorso ora disse rodolfo sporgendosi e mettendo la mano sul braccio di squeers ascolta il disegno che io ho concepito e che debbo debbo ripeto se posso maturarlo perché sia messo ad effetto nessun vantaggio può essere raccolto dal documento qualunque esso sia tranne che dalla ragazza o da colui che la sposerà e l'uno o l'altra è indispensabile abbia in mano questo documento per sfruttarlo su questo particolare io ho la più assoluta certezza ho bisogno d'aver qui questo documento per bruciarlo innanzi a chi me lo porta e dargli una somma di 50 sterline d'oro il signor squeers dopo aver seguito con l'occhio la mano di rodolfo verso il caminetto come se in quel momento la carta stesse bruciando trasse un lungo sospiro e disse sì ma chi deve portarvelo nessuno forse perché si deve far tanto prima di poterlo avere disse rodolfo ma semmai voi i primi indizi di sconcerto del signor squeers e la sua recisa rinuncia all'impresa avrebbero fatto vacillare molti seppure non li avrebbero fatti desistere immediatamente dalla proposta ma su rodolfo essi non produssero il minimo effetto il maestro parlò fino a sgolarsi ma dopo che ebbe finito rodolfo riprese con la stessa freddezza che se non fosse stato mai interrotto diffondendosi su quei particolari che giudicò più adatti a far breccia sull'interlocutore e cioè l'età la decrepitezza e la debolezza della signora sliderskew la grande improbabilità che l'avesse un complice o anche dei conoscenti tenendo conto delle sue abitudini di ritiro e della sua lunga residenza in una casa come quella di gride la forte ragione che vi era per supporre che il furto non fosse il risultato di un piano concertato se no ella avrebbe aspettato l'occasione di portarsi via qualche somma di denaro la difficoltà in cui si sarebbe trovata quando avesse cominciato a riflettere su ciò che aveva fatto vedendosi in gombra di documenti della cui natura era assolutamente ignara la relativa facilità con cui qualcuno che conosceva la posizione della vecchia avrebbe potuto arrivando sino a lei insinuarsi nella sua fiducia e ottenere con questo quel pretesto il libero possesso del documento a queste si aggiungevano altre considerazioni come la costante residenza del signor squeers in un luogo a gran distanza da londra che rendeva la sua relazione con la signora sliderskew una vera burla carnevalesca nella quale nessuno lo avrebbe riconosciuto né allora né dopo l'impossibilità per rodolfo di accingersi lui stesso all'impresa già che lui era conosciuto di vista dalla donna vari commenti sul tatto straordinario e l'esperienza del signor squeers che gli avrebbero fatto mettere nel sacco una vecchia come quella con incredibile facilità in aggiunta a queste parole di persuasione e di incitamento rodolfo fece con la sua massima abilità e potere un vivido quadro della delusione che avrebbe avuto nicola nel caso della loro riuscita trovandosi legato con una pezzente mentre si aspettava di sposare una ereditiera fece comprendere a squeers la grande importanza alla quale sarebbe salito conservandosi un amico quale era lui spazioso una lunga serie di vantaggi goduti dal maestro in tutto il tempo della loro conoscenza a cominciare da quando lui rodolfo aveva testimoniato favorevolmente sul trattamento di un fanciullo malaticcio che era morto sotto le mani del maestro e la cui morte aveva favorito rodolfo e i suoi clienti ma questo non lo disse e finalmente accennò che le 50 sterline potevano diventare 75 o nel caso di una completa riuscita anche un centinaio alla fine di questo discorso il signor squeers incrociò le gambe le separò si grattò la testa si fregò l'occhio si esaminò le palme delle mani si morse le unghie e dopo aver mostrato molti altri indizi di irrequietezza e d'indecisione chiese se 100 sterline fossero la massima somma che il signor nickel vi era disposto a spendere avendo avuta una risposta affermativa egli ridiventò irrequieto e dopo aver meditato e domandato in vano se non potesse prometterne altri 50 disse che egli avrebbe potuto provare a far tutto quanto era in grado di fare per un amico massima che gli seguiva sempre e che lo persuadeva a intraprendere quel compito ma come arrivare sino a quella donna e gli disse questo è ciò che mi imbroglia non so precisamente rispose rodolfo ma mi ingegnerò ho snidato in questa città fino a ora persone che erano meglio nascoste di lei e conosco qualche posto in cui con un paio di sterline ben spese si risolvono enigmi più oscuri di questo sì e si fanno tenere segreti anche se occorre sento il mio scrivano che suona alla porta è opportuno che ci separiamo voi farete bene a non farvi vedere qui ma ad attendere che io vi chiami bene rispose squeers a proposito se non riuscite a scoprirla voi mi pagherete le spese alla testa del saraceno e qualche cosa per la perdita di tempo bene disse rodolfo di malumore sì non avete nient'altro da dire squeers scosse il capo e rodolfo lo accompagnò fino alla porta e si fece sentir che si domandava per l'edificazione di newman perché mai ci fosse la catena come di notte poi lasciò entrare lui e uscire squeers e se ne tornò nella sua stanza e ora egli mormorò accada ciò che vuole per adesso sono fermo e sicuro che io mi rifaccia con questa piccola riparazione della perdita sostenuta e della mia delusione che io gli distrugga quest'unica speranza che gli deve essere così cara che io faccia soltanto questo e sarà il primo anello di quella catena con cui voglio stringerlo e che gli fabbricherò con mano maestra grazie a tutti peiccora pattiamagnola sp gr mulher es